Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Tra Manuel Bortuzzo e Lulu la storia d'amore prosegue anche fuori dalla casa del grande fratello e ci sono già importanti progetti futuri Ma emergono anche le prime questioni da affrontare per il nuotatore, preso tra l'amore per il papà e quello per la sua princess Vediamo cosa è accaduto, ai fan non sarà sfuggito.Una storia d'amore su cui, probabilmente, non tutti avrebbero scommesso e che invece veleggia tra promettenti progetti futuri anche fuori dalla casa del GFV Ma per Manuel Bortuzzo e la sua Lulu, coppia amata e sedita, iniziano anche ad arrivare le prime questioni da risolvere Ed è anche fisiologico che sia così. La vita è una cosa complessa Ai follower della coppia, infatti, non sarà sfuggita una importante novità degli ultimi giorni E i più si saranno chiesti che sta accadendo. E qualcosa, in effetti, succede Sembra, infatti, che il nuotatore, impegnato, tra l'altro, con i suoi allenamenti, starebbe valutando una precisa scelta, preso com'è tra l'amore per papà Franco e quello per la sua principessa Lo avrebbe spiegato proprio lei. Vediamo di capire qual è la novità Manuel Bortuzzo tra il papà e Lulu, l'inevitabile decisione.Manuel Bortuzzo è stato tra i personaggi più amati dell'edizione appena terminata del Grande Fratello, anzi per molti è lui il vero vincitore morale del reality Il nuotatore ha dimostrato, infatti, di avere una grandissima volontà e una straordinaria tenacia La sua storia ha commosso e colpito tutti. Il ragazzo, 23 anni, è un esempio di resistenza e resilienza nei confronti delle dure prove che la vita mette sovente davanti Il proiettile che lo ha colpito ormai tre anni fa lasciando gli inevitabili segni sul corpo nulla ha potuto contro la sua forza d'animo E nella casa, da cui se n'è andato prima della fine del programma per esigenze di tipo terapeutico, ha trovato pure l'amore con una delle principesse Selassie Una storia sfociata nella convivenza. Solo che, a questo punto, c'è da risolvere una questione Grande l'amore per papà Franco che lo ha sempre sostenuto e intenso il sentimento per la sua Lulu E allora? La decisione sembrerebbe inevitabile.Ecco cosa potrebbe accadere Cos'è accaduto, dunque? Semplice. Lulu e Manuel vivono insieme a casa di lui, con il papà Franco che sta al piano di sopra Gli spazi, però, ora, inizierebbero a essere stretti. È quanto emerge da un'intervista rilasciata da Lulu al settimanale Chi Le sue parole sono, tra l'altro, riportati da Fanpage e Il Fatto Quotidiano It. Lei e la sorella Clarissa avrebbero smesso di seguire l'uomo su social, tra nuora e suocero non ci sarebbe troppo feeling Un fatto di mentalità diverse, secondo le parole della ragazza Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci Sono molto vera, non riesco a fingere, avrebbe dichiarato la princess Emmanuel Bortuzzo è ovviamente preso dall'amore per entrambi La soluzione? Parrebbe essere già nell'aria. Eccola, stiamo programmando di cambiare casa, ha riferito lei Un modo per trovare, insomma, un altro, nuovo equilibrio all'interno della coppia Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video